Esia ecologia sicurezza igiene alimentare la società offre consulenze in materia ambientale e alimentare si avvale di una struttura operativa specializzata per le attività di monitoraggio ambientale e alimentare con strumentazione innovativa il laboratorio dispone di moderne attrezzature di misura campionamento e analisi tramite campionamento e analisi la ditta punta a risolvere problematiche tra le quali bonifiche di siti inquinati ambiente di lavoro emissioni in atmosfera acque reflue potabili ristorazione collettiva